E adesso, spirito natalizio, è giusto, aggiungi un po' sta tavola, solidarietà e ci mancherebbe altro, ma adesso anche la ghigliottina del nostro Francesco e si parte all'inseguimento di questa cifra straordinaria, 180 mila euro. Allora, Francesco, comincia a scegliere, quando sei pronto, andiamo, si va. Prima, clima, prima, proviamo clima, ghigliottina, prima, film, opera, opera, ghigliottina, si deve accendere il campione, prima, film, accendetevi anche voi se vi va per giocare la ghigliottina insieme a noi, dieta, poeta, proviamo dieta, ghigliottina, e si accede il campione, non di mezza, prima, film, dieta. Luna, venere, venere, ghigliottina, ci serve la luna, dieta, film, prima, permesso, processo, permesso, processo, permesso, film, dieta, luna, processo, un minuto da adesso, Francesco, buona fortuna, dai! Grazie a tutti! Il campione ha scritto, provate a scrivere anche voi a casa, può consegnare il campione, voi non dovete consegnare, al massimo sul divano, vi girate tesoro, amore, hai scritto, tu che pensi, telefonate, whatsapp, non mi disturbare, sto facendo la ghigliottina, di qua ferveva un po' così, c'era un po', di qua, sì, intanto dice, mo' ce la fa vedere, no, è Natale, è Natale, siamo tutti più buoni, io no, allora no, no, faccio il giro, guarda, vado per i paesi, vado per gli studi, faccio vedere la parola in giro, nei nostri studi theater dedicati a Fabrizio Frizzi, giro con la parola, prima di voi, è il privilegio di essere qua, prima, prima, vedi, prima, prima della parola, di farla vedere agli altri, prima, film, dieta, luna, processo, ti puoi lavare la cuffia, Francesco scusami, ci mancherebbe altro, non te l'ho ricordato, perdonami, prima, film, dieta, luna, processo, allora è quel processo là, allora aspettate, aspettate, per una volta, chi è questo con questa cosa a mano, che vuole? C'è quello lì che dice che presenta, Francesco? Sì, allora, non ci siamo, eh? Comunque ti stavo guardando con la mia mente visionaria cinematografica, tu in divisa da Ussaro, cioè sei pronto per cercare i make dei duellanti, film d'epoca, cioè con la barola così, i favoriti, si stavano, no, ti giuro, davvero, anche film irlandesi, storie di pub, storie di, davvero, ma beh, film, quelli di Kenneth Branagh, tu li fai tutti? Io, allora, prima, film, dieta, luna, processo? Io, eh, Flavio, pensavo che non avevi scritto niente, vedevo tutto piano, fase, fase, una fase. Ti confesso, sono proprio andato nel pallone, non mi è riuscito a seguire un percorso logico nel mentre sceglievo le parole, ho detto fase perché ho pensato la deformazione professionale, la fase del processo. Qui è saltato fuori il Francesco Avvocato, fase del processo, però anche una fase della luna. Una fase della luna, una fase del film, che è fase del film. Giusto. La prima fase. Prima fase, giusto. La fase della dieta. Una fase della dieta, quando uno l'abbandona e torna. Tirata per i capelli. Alla, no, guarda. Cioè, se anche il notaglio respirasse l'atmosfera natalizia, il nostro notaglio che salutiamo, applauso per il notaglio, poca terra che di là. Dice, vabbè, dai, Natale, la prima fase. Una fase del film. Una fase della dieta. La fase della luna, vabbè, una fase lunare, luna, mostrare una fase del processo, auguri, ma c'è magari, prendete la metà, 6.000 e qualcosa, così, però non si può, il gioco comunque ha delle regole, il gioco è serio, lo scherzo, fai come te parli, nel gioco ci sono delle regole, quindi comunque vada anche, voglio dire, come Avvocato Francesco Sardinario ci potrebbe convincere con una sua riga, ma io poi dovrei girare la piastrella che reciterebbe qualcos'altro, no? Forse. Che poi tu hai detto una parola, cioè, quando mi hai detto, sono andato un po' nel pallone e alla luce del fatto che appunto sei grande appassionato, tifoso viola, cento e più magliette arrivate da tutto il mondo di squadre di calcio, insomma, nella tua collezione, mi serviva il Francesco del pallone, quello delle magliette, quello delle partite, quello della Fiorentina. Perché quel processo lì? Processo? Processo? Tu sei giovane. Mi viene un... Wood? Uno che lo conduceva il processo, però... Cioè? Non credo sia quello. Quale? Veniva Biscardi, il processo di Biscardi. E di quanto era il processo? Del? Del... La domenica? La domenica c'erano le partite. Del sabato sera. Ah, il sabato... Prima, il processo dei veggenti. Ah, eh... Il sabato sera già litigavano su quello che sarebbe successo... Ah, del lunedì. Il processo del lunedì. Aldo Biscardi, per favore, parlate solo due per volta, insieme. Diceva, parlate insieme solo due per volta. Brevemente, brevemente. Parlate solo due per volta. Il processo del lunedì, quante volte anche uno si arrabbiava, ma no, era rigore, non era... Rigo è altro che la vardia, ma che ne sapete. E... Fori, volete fare domande? Come, non vi convicco? Prima di lunedì. Applauso per il nostro amico Vincenzo Salepro, il suo film. Prima di lunedì. A parte il processo del lunedì, un altro caposaldo, un'altra pietra miliare della nostra RAI con la quale siamo cresciuti. Non è che uscivamo sempre, non uscivamo mai. Lunedì sera, il grande cinema. La sigla del maestro Lucio Dalla. Ta-ta-ta-ra-ta-ta. Lunedì film. Quella andatela a cercare. Il titolo è lunedì film. Ah, beh. Qui diventiamo anche un po' colti, perché l'eredità, nonostante me, è anche cultura. Perché si chiama lunedì? Perché il giorno della luna, cioè i latini pensavano fosse lunedì, il giorno influenzato fortemente dalla luna. E in queste serate, dove vi ripeto, si mangia tanto, facciamo mangiare anche chi non c'è niente o poco e quasi nulla. C'è 4, 5, 5, 8, 6 per far mangiare anche gli altri. Chiudiamo con un sorriso, perché c'è la dieta, è vero che c'è la dieta defaticante, depurante del lunedì. Ma soprattutto in questi giorni, lo so, bugiardoni miei, lo so che lo direte. Vabbè, stasera, Pandora, tanto poi lunedì comincia la dieta. E non sarà vero, e non sarà vero. Ma è vero che la parola è lunedì. Vieni Francesco, che salutiamo. La fate una corsa, venite a salutare Samira, Andrea. C'è una corsa sempre, rimanendo, insomma, senza farmi male. Allora, ricapitolando, auguri Samira, Francesco, al nostro Andrea. Ciao prof, auguri a tutta la famiglia.